Nel nostro viaggio di ascesa al purgatorio eravamo arrivati alla porta del purgatorio vero e proprio, l'avevamo oltrepassata e adesso cominciamo a salire sulla montagna e a proseguire verso il paradiso terrestre. Quindi se voi tenete sotto mano, penso che ce l'abbiate su qualsiasi edizione, lo schema del monte del purgatorio, vedete che le anime dei purganti sono divise in sette cornici, una per ogni peccato. Vedremo che uno schema ricorrente in questi canti centrali del purgatorio sarà alternare un canto di descrizione delle pene dei purganti e un canto in cui si celebrano virtù opposte al peccato che viene espiato. La prima cornice che andiamo ad incontrare è quella dei superbi, quindi oggi vediamo in riassunto il canto decimo e leggiamo poi il canto undicesimo che ci spiegano un po' che cosa succede ai superbi, cioè coloro che si sono macchiati del peccato di superbia, ma che se ne sono pentiti e quindi stanno espiando per procedere poi verso il paradiso terrestre. La parete della cornice in cui ci troviamo è scolpita con una serie di bassorilievi che rappresentano scene della virtù contraria alla superbia, che è, secondo voi, qual è il contrario di superbia? Bravissima Martina, l'umiltà. Quindi, se la superbia è colui che sta super, cioè sopra gli altri, cioè si considera più importante, più bravo, più intelligente, più bello e disprezza gli altri, al contrario l'umiltà è la caratteristica di colui che è umilis, cioè vicino alla humus, alla terra, no? E quindi, come diciamo anche noi oggi, vola basso ai piedi a terra. La superbia è il primo peccato capitale perché è un peccato per malo obietto, cioè l'amore viene collocato nel destinatario sbagliato, cioè verso se stessi. La punizione di queste anime purganti avviene per contrapasso, esattamente come all'inferno, un meccanismo che regola l'espiazione è il contrapasso, con la differenza che all'inferno era una pena eterna, invece lo purgatorio è una pena momentanea che serve a espiare la colpa. Il contrapasso in questo caso è per contrasto. Come in vita i superbi erano stati a testa alta, sopra gli altri, si consideravano superiori, allo stesso modo adesso sono costretti a portare un enorme macigno sulle spalle, come nel mito classico alcuni superbi puniti, gli inferi, sono costretti a portare questo masso gigante sulle spalle, quindi hanno una testa china a terra e camminano riuscendo a vedere soltanto i propri piedi. Nel canto decimo sono descritte tre scene che fanno ben capire che cosa sia la virtù della umiltà. Quindi il canto decimo è una carrellata di esempi positivi opposti al peccato che viene espiato. Le anime dei purganti sono obbligate a stare chini a guardare queste scene e anche Dante e Virgilio ammirano questi bassorighi. Le tre scene sono la scena dell'annunciazione, una scena dell'Antico Testamento relativa al re David e un episodio della vita dell'imperatore Traiano. Riccardo? All'epoca non c'erano i video multimediali ma c'erano i bassorilievi. Quindi nel canto decimo Dante e Virgilio osservano questi bassorilievi che sono delle illustrazioni per meglio comprendere la virtù dell'umiltà, che è la virtù contrapposta rispetto al peccato di superbia. Decorono le pareti e il pavimento della prima cornice e i superbi che hanno il peso del macigno sulle spalle sono obbligati a guardarlo sempre. Il primo episodio, proviamo ad analizzarle velocemente, il primo episodio è l'annunciazione, è il punto chiave dell'umiltà cristiana, del Vangelo. Ecco la serva del Signore, sia fatta di me la sua volontà, dice Maria, no? Dice sì, dice ecco l'ancella del Signore, ecco la serva del Signore. Quindi l'umiltà consapevole che concede a Dio la volontà e l'obbedienza senza rimettere però la propria libertà. Cioè è un gesto libero quello di Maria. Maria che liberamente concede il suo assenso alla nascita di Gesù. Non è che adesso noi diciamo tutto in maniera molto edulcorata, molto morale, va bene, ma pensiamo a che cosa voleva dire questa cosa, eh? Arriva un messaggero, perché l'alcangelo Gabriele alla fine è un messaggero. Facciamo finta che una di voi sia promessa sposa con un fidanzato, Giuseppe di turno, arriva un messaggero e gli dice tu da domani sarai incinta senza motivo, aspetterai un figlio, lo chiamerai Gesù e già oggi avremmo la stigmate, no? Di questo figlio che non si capisce da dove arriva, da una relazione extraconiugale o chissà che cosa. Figuriamoci all'epoca in cui le donne che avevano delle relazioni extraconiugali non solo venivano stigmatizzate, ma venivano anche lapidate, cioè le ammazzavano proprio, le uccidevano. Giuseppe avrebbe avuto tutto il diritto di ripudiarla Maria, se andava bene, faceva la fine della donna di strada, se andava bene. Quindi vedete che è un sì difficile da fare, non così immediato, eppure è un sì umile che dice sia fatta di me la volontà del Signore, ecco la serva del Signore. Quindi l'esempio per eccellenza non a caso Dante lo sceglie come primo esempio di umiltà. Tra l'altro c'è proprio un riferimento al verso 44, ecce ancilladei, c'è proprio la citazione. Il secondo episodio riguarda... Esatto, che è la virtù opposta, l'umiltà che è la virtù opposta rispetto al peccato di superbia. E l'ho appena spiegato, che Maria, quando riceve l'ambasciata dell'Arcangelo, innanzitutto rimane stupita. E poi dice, ecco la serva del Signore, si è fatto di me quello che vuole il Signore. Perché Maria si presenta come serva del Signore, ancilladomini. Vi ricordate, avevo fatto leggere il Magnificat, andiamo a riprenderlo un attimo. Il Magnificat è un canto tradizionale che viene ripreso dal Vangelo secondo Luca. Luca è evangelista, secondo una tradizione sarebbe stato molto vicino agli ambienti in cui visse Maria dopo la morte di Gesù, o addirittura avrebbe intervistato, secondo, ad esempio, il mio professore universitario Maria. E non era una tesi campata in area, perché è l'unico che sa delle cose che gli altri non sanno degli evangelisti. Guardate un po'. Il mio professore dell'università sosteneva questa interessante teoria, secondo cui Luca è l'unico evangelista che ha, nel suo Vangelo, dei riferimenti all'infanzia di Gesù, perché Luca ha parlato, ha conosciuto la Madonna. Econologicamente ci sta, perché Luca scrive nel 70, più o meno, 70 dopo Cristo, avrebbe fatto in tempo a conoscere una Madonna. O comunque, se non ha conosciuto la Madonna, ha conosciuto qualcuno che ha conosciuto la Madonna. E Luca è l'unico che parla, ad esempio, dell'episodio del Tempio, a 12 anni, all'infanzia di Gesù. O ha dei dettagli in più. Comunque, se torniamo al nostro Magnificat, che è il testo che viene tratto da questa preghiera, che San Luca riporta. Guardate. Però, che cosa interessa a noi? Magnificat anima mea dominum, et exultavit spiritus meo, in Deo salvatore meo, quia respectit umilitate mancille sue. La mia anima magnifica al Signore, il mio spirito è esultato in Dio mio salvatore, perché, quia, ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'onipotente, santo il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temano. E quindi è tutto un inno alla potenza di Dio che innalza gli umili e affosse i superbi. E' una tematica, quindi, che ritorna spesso nel Vangelo. Questo sì consapevole di Maria, che è un sì umile, però. Ecco l'ancella del Signore. Sia fatta di me secondo la tua volontà, dice l'angelo. Il secondo episodio è legato all'arca dell'alleanza, un episodio di Davide e di Nicol, vado veloce. Il terzo episodio è abbastanza significativo, perché non è più preso dal testo sacro, ma è preso dall'impero romano. Ecco, l'ho già accennato, lo spiego ancora questa volta, poi lo vedremo bene l'anno prossimo, con il Sesto del Paradiso. Nella mentalità di Dante, l'impero romano viene subito dopo il mondo della Bibbia, e quindi è un grande esempio, un grande esempio. Traiano a un certo punto incontra una vedova che gli chiede giustizia per il figlio che è stato ucciso, mi sembra, e il nostro Traiano gli dice ho altro da fare, devo andare a combattere. In realtà, la donna continua a pregare, dice ma no, ma io voglio la tua giustizia, il tuo compito è amministrare la giustizia, e Traiano dice ma io devo andare a combattere, non ho tempo, il mio successore ti darà giustizia se io dovessi morire. Se invece non muoio, torno e dico ma no, ti prego, grande imperatore, io assolutamente ho bisogno di giustizia per il mio figlio ucciso, è giusto che tu adempi i tuoi doveri. Allora Traiano si ferma a parlare con questa donna, decide di ascoltare le preghiere di un'umile donna, le dà giustizia e secondo una tradizione teologica questo gesto avrebbe fatto sì che Traiano venisse addirittura salvato benché fosse infedele pagano. Cioè il grande imperatore che si ferma a rispondere alle suppliche della povera donna. Vi vedete ancora una volta il tema dell'umiltà, questo decimo canto, che non andiamo a leggere perché è significativo, sì ma dobbiamo fare una scelta, noi ci soffermiamo invece sul canto undicesimo, che invece è un canto dove si parla del peccato, quindi della superbia. Siamo sempre nella stessa cornice, siamo sempre nel primo cerchio, nella prima cornice del purgatorio, e qui Dante incontra tre personaggi, che come abbiamo visto è un fatto comune nel purgatorio, perché spesso Dante, per spiegare i temi di cui vuole parlare, racconta dell'incontro con delle persone, dei personaggi significativi. Allora, i tre personaggi che incontra sono Umberto, che sarebbe il nostro Umberto, Umberto degli Aldo Brandeschi, poi incontra Oderisi da Gubbio, e infine Provenzano Salvani. Sono tre, sì ma li trovate tutti giù sul libro, Umberto degli Aldo Brandeschi, Oderisi da Gubbio, e Provenzano Salvani. Ci sono solo i superbi, Gabriele. Allora, abbiamo visto nel decimo, una serie di scene della virtù opposta, rispetto al peccato dei superbi, giusto? Invece l'undicesimo è l'incontro, con tre anime di superbi, che stanno espiando le loro colpe. Sono, in questi canti centrali del purgatorio, che adesso andremo ad analizzare, nelle prossime settimane, sono dittici. C'è sempre un canto che racconta del peccato, e un canto che racconta della virtù opposta. Noi leggiamo l'undicesimo, in cui Dante incontra questi tre personaggi. Umberto degli Aldo Brandeschi, Oderisi da Gubbio, e Provenzano Salvani. Umberto degli Aldo Brandeschi, rappresenta la superbia per schiatta, o sclatta. Ve lo ricordate questa parola? L'avevamo vista l'anno scorso. Quando avevamo parlato di Alcor Gentile, Rampai era sempre amore di Guinnesselli, si parlava della nobiltà, e questi nobili che si vantavano delle loro ascendenze, delle loro origini, dei loro antenati. Ecco, Umberto degli Aldo Brandeschi appartiene ad una importantissima nobile famiglia degli Aldo Brandeschi, e quindi rappresenta il superbo, appunto, per Stirpe, per i suoi natali. Il figlio di papà, se vogliamo tradurlo in un'espressione molto attuale. Un bel libro che vi consiglio, Stefano Benni, La compagnia dei Cilestini, divideva il mondo tra i comuni mortali, i Fidipù e i Fidipà. I Fidipà sono i figli di papà, i Fidipù li lascio immaginare, è anche abbastanza ironico, è divertente. Insomma, questo Umberto rappresenta il viziato figlio di papà, nobile, che si ritiene superiore agli altri soltanto perché viene da una famiglia importante. Molto interessante è poi Oderisi da Gubbio, che è uno dei più famosi illustri artisti dell'arte dell'alluminare dal francese, illuminé, noi possiamo tradurre come l'arte della miniatura. Oderisi da Gubbio era il più famoso miniatore della generazione precedente a Dante e Dante, parlando con Oderisi da Gubbio, parlerà della gloria nell'arte. È un tema abbastanza sensibile perché allo stesso Dante, insomma, era abbastanza superbo, era convinto che sarebbe poi finito dal purgatorio, si sarebbe salvato, attenzione, sia chiaro, però sarebbe finito dal purgatorio per il peccato di Superbio. Così dice lui, insomma. Infine, poi, il nostro ultimo personaggio, Provenzano Salvani, è un condottiero militare che si salva per un gesto di di umiltà, ancora una volta, quindi anche la sua storia sarà una storia esemplificativa. Fatta questa premessa, possiamo entrare nel canto e vedere che all'inizio troviamo una interessantissima parafrasi del Padre Nostro. Padre Nostro, la preghiera per eccellenza del cristianesimo, tra l'altro, non so se avete seguito, adesso non ho introdotto nel messale una nuova versione del Padre Nostro con alcune modifiche, magari poi ci parliamo. il credo non mi sembra tanto, altre preghiere sì, però è interessante come una traduzione dia un significato piuttosto che un altro. Comunque, il nostro Dante inserisce il Padre Nostro che viene proclamato dalle anime che sono quindi una comunità che prega, questo motivo ricorrente che abbiamo già visto. Ma, adesso lo leggiamo, facciamo attenzione a due punti. Il primo, che innanzitutto Dante, come scrive, così liberamente o seguono una regola? Dal punto di vista proprio tecnico. Ricordate, terzine incatenate che rimano A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, E, D. Quindi, innanzitutto deve metterlo tutto in rima e non è facile. E poi, deve fare un altro procedimento molto complesso, cioè deve trasformare il Padre Nostro che è una preghiera cantata, pregata, dei vivi in una preghiera per i morti. Quindi deve sostanzialmente fare delle modifiche interessanti. Questa prima parte adesso la andiamo a vedere. Prima illustro un po' il canto e poi dopo la registrazione andiamo a leggere con canto. Quindi, vedete, la prima parte è già significativa. Dopo questa premessa abbiamo il dialogo con Umberto che appunto rappresenta la nobiltà di Schiatta. E' interessante soprattutto, e ci soffermeremo su questo, il dialogo con Oderisi che racconta come si avana la gloria nell'arte. In particolar modo, sono più o meno intorno al verso 94, prima parla di se stesso e dice che è stato superato nell'arte della miniatura da un altro grande artista che si chiama Franco da Bologna, Franco Bolognese, ma poi parla di pittura e dice che Cimabue credette di tenere il campo, cioè di essere più importante nella pittura, ma in realtà ora ha giotto il grido. e poi nello stesso modo un guido ha tolto all'altro guido la fama nella poesia, quindi il nostro guido Cavalcanti, se vi ricordate l'amico di Dante, ha tolto il primato della poesia a Guido Guinizelli che era stato l'autore della generazione precedente e ora cito testualmente e forse nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Con la sua proverbiale modestia qui Dante sta dicendo che lui stesso prenderà il posto di Guido Cavalcanti come il più famoso e il più importante dei poeti. Attenzione, qua qualcuno ha voluto vedere una contraddizione, no? Siamo nel canto della superbia, siamo nel canto, abbiamo appena visto il canto dell'umiltà e quindi Dante sta dicendo che Guido Cavalcanti ha rubato il trono della poesia Guido Munizelli e adesso lui stesso ruberà il trono entrambi, insomma, sembra un po' stridere, contrastare con le tematiche. In realtà la lettura deve essere più sottile, non vuol dire che Dante è migliore degli altri due, vuol dire che Dante è consapevole della sua bravura ma è anche consapevole che la gloria è effimera, è transitoria, così, nello stesso modo in cui Cavalcanti ha tolto il primato a Guinizelli, allo stesso modo adesso Dante sta togliendo il primato a Cavalcanti ma nascerà qualcuno a breve che toglierà la gloria a Dante, quindi è una dichiarazione di consapevolezza di quel motivo sic transit gloria mundi molto medievale che abbiamo già visto, la vanitas vanitatum se vi ricordate Petrarca, e quindi non dobbiamo leggerlo come un atto di superbia di Dante ma piuttosto come la consapevolezza che la gloria terrena è effimera. Tantorna, se ci pensiamo, pochi anni dopo Petrarca viene incoronato poeta laureato, Dante non ha mai avuto un loro poetico anche se l'ha sempre agognato, quindi da un certo punto di vista anche lo stesso Dante è stato superato già subito nella generazione successiva. Quindi una lettura che deve essere un po' interpretata. Provenzano Salvani invece era un grande condottiero si era macchiato di varie colpe anche di atti superi però un solo gesto gli è servito per essere salvato dalle pene dell'inferno e passare al purgatorio. Quando un suo amico era caduto prigioniero nelle varie guerre tra i comuni della Toscana medievali della Toscana del 300 la fine del 200 ecco che era sceso in piazza a Siena in piazza del campo e si era messo a mendicare a chiedere a tutti i passanti la carità per raccogliere la cifra necessaria per il riscatto del suo caro amico. Ecco non aveva avuto vergogna di umiliarsi di fronte a tutti pur di così salvare il suo amico. Quindi questo atto di generosità di umiltà permette a Provenzano Salvani di salvarsi. Quindi cosa possiamo cogliere di questo canto? riassumo velocemente i quattro temi e poi lo leggiamo. Allora innanzitutto il tema della comunità nessuno si salva da solo come dice il Papa Francesco quindi il Padre Nostro iniziale che ha un suo significato attenzione siamo al primo incontro di anime purganti cioè la prima volta che Dante e Virgilio incontrano delle anime dentro al purgatorio queste anime pregano tutte insieme tra l'altro con il gesto consueto del Padre Nostro non so se avete presente si allargano le mani come ad abbracciare l'intera comunità e poi richiedere la grazia a Dio il tema di Umberto è quello della nobiltà di Stirpe che porta lontano dalla verità di Dio il tema di Oderisi di Gubbio è il tema della vanagloria nell'arte nelle arti nella letteratura nell'onore terreno e poi abbiamo l'esempio di Provenzano Salvani cioè il gesto di autoespiazione di auto di auto umiliazione a volte abbassare il proprio orgoglio conduce alla salvezza quindi sostanzialmente questi sono i temi del canto l'umiltà del personaggio di Provenzano Salvani che abbassa il proprio orgoglio abbassa la propria superbia pur di salvare un amico quindi permette a Dante di far capire che a volte umiliarsi abbassarsi è molto più nobile che non considerarsi con grandezza con superbia e con arroganza questi sono i quattro temi che abbiamo introdotto adesso andiamo a leggere il canto grazie